Allora, oggi, il 17 luglio, penultimo giorno qui a Berlino, siamo venuti all'Eastside Gallery, è una porzione del muro tutta con graffiti. È inutile dire che li ho fotografati tutti. Dopo andremo al Karl Marx Halle, che era lo stradone principale dove avvengono. Dunque, stavo dicendo, dopo qui andremo al Karl Marx Halle, che era la strada principale, lo stradone dove avvengono tutte le parate sovietiche, perché c'era già parte della Germania dell'Est. E poi vagheremo un po' per la città oggi, la maggior parte dei musei sono chiusi. E forse è un bene, perché a volte quando si è in vacanza magari ci si affanno a vedere troppe cose e ci si scorda di godersi un pochino l'atmosfera. Ah, questo è il famoso, sicuramente forse è uno dei più famosi. Io ero venuta. Io ero venuta. Un valore. Io ero venuta. Io vorrei. Io ero venuta. E' continuo così per centinaia di metri, chiudo qua, questo è troppo bello, vediamo se troviamo l'ispirazione a casa, fare qualunque cosa, ma ogni cosa va bene, basta fare. Sono finita nel negozio di M&M's, mia figlia si sta prendendo qualcosa. Siamo nella strada Kurfürdam e credo che la giornata poi insomma passerà un po' così, guardando un po' quello che la città ha da offrire. Grazie. 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 Grazie.